Le indagini si sono svolte in questi mesi al fine di individuare i responsabili di quanto accaduto durante il derby di campionato di Serie D Montevarchi-San Giovannese dell'8 ottobre 2023. Indagini che hanno portato al daspo di quattro persone. Le cause delle misure cautelari applicate sarebbero i lanci di petardi e il danneggiamento dei bagni dell'impianto sportivo. Inoltre le due tifoserie non arrivate allo scontro avevano comunque cercato di forzare il cordone di sicurezza formato dalle forze dell'ordine. Alla fine della partita, ristabilita la sicurezza e l'ordine pubblico, sono iniziate le indagini che, anche grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nello stadio, hanno portato ad individuare quattro persone, tre per la tifoseria san Giovannese e una per quella montevarchina. Tutti deferiti all'autorità giudiziaria per vari reati, quali getto pericoloso di cose, accensione ed esplosioni pericolose in occasione di eventi sportivi, travisamento senza giustificato motivo in occasione di eventi sportivi e resistenza a pubblico ufficiale. Per tre persone il DASPO avrà durata di un anno, mentre per il quarto recidivo la misura applicata avrà durata di cinque anni, con l'aggiunta dell'obbligo di firma presso l'ufficio di pulizia competente per territorio negli orari corrispondenti allo svolgimento delle manifestazioni sportive di interesse.